Ciao a tutti ragazzi, qui i giorni e benvenuti in questo nuovo episodio di Call of Duty Infinite Warfare Oggi siamo qui su un episodio molto speciale perché oggi parleremo così davanti allo schermo, sì Quindi oggi faremo il gameplay più calmo del mondo E direi, troviamo tutti quanto tutti, ci vediamo subito in game Ok, siamo sulla partita appena iniziata, grandioso Allora, direi di muoverci lentamente e osservare i nostri nemici C'è uno qua, ah, pezzo di cacca Invevo cercare di non alzare il tono di voce perché ci possiamo altolare benvenire durante queste partite Ok, perché non moriva questo qui, gli ho fatto un po' di colpi, però dai, non importa, l'importante è che l'abbiamo ucciso Ora cerchiamo di non farci sbudellare troppe volte Direi perché Ora questo dove fa? Ci aspetta là? Ah, così proprio vuoi giocare proprio male Perché ho capito, ho letto tecnico Ah, 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 lo voglio di infatti C'è uno qua Eh, però non due davanti a me Ce n'è uno anche qua Spero non abbia mai visto, andiamo con overdrive Andiamo di... Andiamo di andare in giro Ma non è servito un cazzo Perché c'è la sua stronza pronta ad aspettarci Direi di tenere felice classe e mettere questa Andiamo un po' Cerchiamo di... Molto attenti, grandi Così, vedi Mi sento a miaggio quando ho proprio le mie classi Eh, già vuoi di fare il furbo tu, eh Aia, perché? Perché tu ti conto di me, dai, però Sei stronzo Ah, mi è venuto a prendere Non l'ho visto per un cazzo, proprio Stiamo... Vorrei fottere Questo mi ha spannato qua C'è un nemico qua Vedi, rifiliamocene via Urca, come l'abbiamo uccida Via, 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 l'altro, l'ho matto Merda, questo non... Cioè, ci aspettano qui Guarda che figlio di troia, proprio Occhio con calma A volte non mi fa la scivolata, però dai, non importa Non è questo problema giusto Il nostro problema è recuperare e vincere Tu muori Madonna, ce l'ho davanti o dietro? Oh, Cristo Devo andare a vista cosa Dove va il nemico bello? Prezzo di merda L'ha rubato, se stanno Ma che cazzo è? Aiuto, aiuto, aiuto Madonna, che nervi ho Non li trovo mai, non li trovo mai Non li senterò mai Vincino un bombino Oh dai, Dio Sempre davanti o da dietro Ma muori più l'ultimo Pezzo di merda Vieni qua Oh, è il nemico in avvicinamento No, grazie Grazie mille No, no, no Perché non ho continuato a spararli Cazzo Siamo 15-20 Dai Nulla fa andare male Cazzo Sempre se i nemici non ti compaiono dietro Perché mi sentiamo? Dobbiamo essere calmi Non bisogna evitarsi Giusto Aia, aia Madonna Calma, calma Non c'è Ovviamente ho bisogno di Incazzarsi Per niente Perché tu muori Esatto Non lo sentire anche bene È bello Tu spawni sempre là E mi è sempre un po' sul cazzo Questo me lascia dietro E non è nevole sapere di morire Quello corre Dove va? Ma dove vai? Questo è mio Perfetto Così Ok No, no Da dietro no Proprio dai Cerchiamo di recuperare Forza 23-27 24 Cazzo La ricarica Mi ha fatto sempre a me 25 26 No Cavolo 26-15 Beh, è andata bene Però Dai, bene Io direi Questo video è tutto Io vi saluto E vi ringrazio Spero che questo video vi sia piaciuto Qui da giorni tutto Bella